Dopo la bocciatura da parte del Ministero dell'Ambiente della costruzione della quarta pista dell'aeroporto di Fiumicino, perché incompatibile con la riserva statale del litorale romano, ADR rende noto che da tempo sta lavorando, assieme a ENAC, alla revisione del piano sul Leonardo da Vinci. Questo nuovo progetto ha l'obiettivo principale di coniugare la necessità di aumentare la capacità del traffico aereo al profondo rispetto della natura e del territorio attorno allo scalo. Il primo aeroporto italiano porta ad accesso da e per il nostro paese, registra da oltre dieci anni una crescita costante del volume di passeggeri e le stime per il prossimo futuro rendono ineludibile uno sviluppo delle infrastrutture di volo e di terra, ha commentato la società in una nota ufficiale. Ricordiamo che la Commissione del Ministero per l'Impatto Ambientale ha lasciato aperta comunque la realizzazione di una quarta pista.